salve salve a tutti e benvenuti in questo non ultimo speciale adrian le prime impressioni dico non ultimo perché non voglio casomai allarmarvi questo non sarà l'ultimo speciale adrian anche se purtroppo che è un grande rammarico vi dico questo adrian la serie evento oggi si è conclusa con un qualcosa di poetico devo dire la verità perché se ci pensate bene era iniziata proprio in questo periodo più o meno adesso siamo dicembre adrian era iniziato fine gennaio quasi un mese e mezzo distanze all'inizio dalla fine e in quel mese e mezzo cosa ci sono le feste non credo penso che ci saranno prima tutti i miei speciali adrian che usciranno perché io proprio di digerire questo lutto non non ci riesco almeno nel breve termine mentre invece serviranno appunto per digerire infatti questo lutto per tutti noi amanti di questo progetto che l'abbiamo seguito fin di agli arbori che proprio no devo essere sincero con voi l'ho seguito della terza puntata in poi perché non so neanche esistesse adrian la serie evento me ne hanno parlato ho visto la terza puntata che è stato amore incredibile un amore che ci ha portati a gioire a sorridere e ad aspettare per più di sette otto mesi che questo capolavoro del vorrei dire trash ma no dell'assurdo questo capolavoro dell'assurdo perché se ci pensate bene adrian è il the room italiano in questi infatti riprendendo un discorso prima scusate in questi otto mesi noi abbiamo sperato ritornasse è ritornato e ci ha reso felici come non mai ogni puntata quasi secondo me ancora la sesta traballava oma rispetto a quello che vi dirò adesso cioè ogni puntata incredibilmente sfondava il tetto dell'assurdo ha sfondato il tetto dell'assurdo quest'ultima sempre di più sempre di più sempre di più e sono molto felice nonostante sia finita la serie che aveva avuto un finale così teatrale e assurdo come tutta la serie e che faccio fatica a pensare come si potrebbe superare in assurdità questo finale che è stato meraviglioso ma adesso ne andiamo a parlare calma le prime impressioni io ho soltanto una scaletta dove mi sono annotato diciamo o durante la visione ma molto poco ma durante questo una mezz'oretta diciamo tutte le cose più importanti che sono successe alla fine sono poche ma quelle poche che sono successe sono veramente molto intense quindi partiamo subito con queste mie prime impressioni rapide non sarò preciso assolutamente sugli episodi precisi per quello dovreste aspettare l'analisi minuziosa della nona che tuttavia uscirà molto in là perché il primo devo fare l'analisi minuziosa dell'ottava e poi arriverà la nona poi dopo la nona arriveranno speciali io già vi dico voglio fare 50 sfumature di adrian assolutamente meno voglio immaginarmi la notte di fuoco che adriano celentano possa aver passato con quella vedova tra l'altro più ci penso più ci sono cose risolte ma non risolvo niente parlando nelle prime impressioni andiamo scusate vi sono fatto perdere 4 minuti e 30 di chiacchiere andiamo la bomba nella scuola che dire lì è diventato vi per vendetta spoiler perché non avesse visto vi per vendetta uno degli eventi uno degli atti malefici che il governo di vi per vendetta commette nel film appunto farà ammalare con questo virus incredibile tre punti strategici una stazione metropolitana la riserva idrica e una scuola qui per devastare le cose per incrementare la paura mettono una bomba in una scuola scuola dove tra l'altro hanno lavagne futuristiche dove scrivono i numeri ma non hanno una campanella che suoni quando c'è tipo un'esercitazione o anche una qualsiasi emergenza dato che ci sono due in bagno che non non vengono avvisati che c'è tipo una bomba nel nella loro scuola anche se poi c'è il primo ministro che dice no è un'esercitazione ma anche nelle esercitazioni di solito la campanella dovresti farla suonare non so in questo 2068 cosa abbiano al posto delle campanelle ma probabilmente palazzi di cemento secondo Celentano ma molto molto devastante è stata quella scena che perché mio dio è morto johnny silver in quella scuola dopo che è stato sfottuto da Celentano perché mentre stavano lì a tagliare i cavi a quale quello violo quello rosso per disinnescare la bomba lui dice rosso lui ah no taglio il viola a stronzo è sbagliato poi muore con grande lacrime della sua ragazza e anche di tutti noi che diciamocelo johnny silver è stato l'autore delle vicende che poi hanno formato adrian perché se non avesse insistito affinché adrian salisse su quel palco non avremmo avuto tutta questa fantastica oserei dire storia veramente meravigliosa ma passiamo alla ciccia anzi prima un'ultima perla la rivelazione che adrian e darian fatta a johnny silver e a marco veramente veramente commovente infatti bisognava capire che o marco o il tizio o johnny silver scusate sarebbe morto lì a poco e hey johnny silver è il malcapitato ma adesso veniamo alla ciccia vera e propria il combattimento finale io avevo visto prima di questa puntata mi ero recuperato all'ottava quindi ho fatto tipo una specie di maratona di adrian e ho visto il combattimento nella chiesa dell'ottava mio dio meraviglioso ma come farà celentano a fare qualcosa di più delirante di questo combattimento beh una sola parola pavarotti 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 io avevo le lacrime agli occhi come penso tutti voi che mi state ascoltando in questo momento è stato fantastico le fiamme i fulmini gli uragani i terremoti il vulcano che erutta e distrugge solo gli edifici cattivi le villette le cose rurai no gli edifici cattivi vanno abbattuti le cose no ma gli edifici cattivi sì quindi ci sono tante cose nelle prime impressioni cosa posso dirvi è stato meraviglioso vedere pavarotti che compare a caso durante il combattimento solo perché la colonna sonora era la sua cioè in quel combattimento era la sua era lui che cantava con questa cosa che drangenstein cerca di stuprare le tre ragazze principali della serie tra l'altro non è un cazzo vero c'è soltanto gilda quella principale della serie le altre due sono sbucate dal nulla tra l'altro mi hanno fatto notare uno con cui guardavo adri anche gli mortacci loro gli strappano la camicetta poi in un'inquadratura c'è la ancora intatta poi tornata strappata quel combattimento lì va preso e mostrato nelle scuole di cinema di animazione nelle scuole di vita ha mostrato quel combattimento e dire ecco questo è la vita eterna tu adesso lo prendi lo analizzi e capirai che in questo questa sequenza ci sono più allegorie della divina commedia dei promessi sposi messi insieme così impari come funziona la vita nella non vedo l'ora di fare la cosa minuziosa e cercare di recuperarmi e rivedermi col combattimento perché mio dio mio dio ecco diciamo che adrian ha la conclusione più degna di avengers endgame perché avengers endgame il combattimento finale non è niente in confronto a questo cioè solo per la quantità di cose viste sullo schermo cioè mio dio le ragazze principali che smacellano gli edifici perché sono diventati giganti però mezze nude che devastano gli edifici e non cazzo mancava soltanto king kong e l'apparizione della madonna e sarebbe stato perfetto perfetto veramente tra l'altro è apparso dio apparso dio perché c'è giustamente una non mi ricordo chi delle protagoniste che in san pietro con il braccio dato che è gigante va tra le nuvole e c'è la luce celestiale ma quante cose ci sono c'è gilda che raccoglie se stessa gilda gigante che raccoglie se stessa piccola e lì parte l'inno del frider for future che poi bella ciao rivisitata tutto è l'ambientalismo tutto l'ambiente e tutto si rivedono i due vecchi visti quanto tre puntate fa che ci lamentavano del fatto che non vedevano più le montagne e loro la terra si è vendicata quindi loro possono rivedere le montagne quella è una finezza incredibile finezza come scoprire che la voce narrante che veniva a cazzo durante le puntate come celentano durante le prime quattro puntate del pre show era quella di marco che da anziano racconta i suoi nipoti le gesta di adrian e quando questi gli chiedono ma è invecchiato come te si vedono questi tre fantasmi di forza come in star wars episodio 6 che si allontanano che in realtà sono adrian darian e la volpe che si allontanano verso il sole vanno verso il sole e compare la scritta not the end cosa vuol dire questa scritta ce lo potrà dire solo dio quindi ce lo potrà dire solo adriano celentano cioè che lui sperava davvero che ci fosse una seconda stagione o che non è la fine nel senso che anche se il bene ha vinto il male dietro l'angolo ma strano perché il male è stato pietrificato da un fulmine pietrificato da un fulmine durante la battaglia finale ci sono tante cose da dire tante cose che mi hanno lasciato con la bocca aperta per esempio scoprire che era che nel guerriero alla fine la storia cioè che ci svelano come adrian ha imparato le arti marziali l'imparava con drangenstein e quindi loro si conoscevano fin dall'inizio quindi questo è lo scontro anche quasi fratricida non fratricida nel senso che sono fratelli ma il senso che si conoscono a tanto tempo da quando erano bambini mio dio veramente cioè come ammazza ci sono tante cose le bombe messe dalla mafia international per scatenare la cosa pubblica la paura contro celentano il sindaco il sindaco di milano il sindaco di milano che non so se muore ma penso di sì perché non ritorna poi durante la la sera e muore con la sua segretaria che era sempre innamorata di lei di lui tra l'altro ancora un dialogo meraviglioso ma ci arriveremo nell'ottava che muore come in via col vento non nel senso che nella maniera in cui si muore in via col vento ma come la locandina di via col vento e con la stessa musica sotto lì lì ero lì ero disperato che piangevo incredibilmente sto andando anche fuori scaletta perché non sono ricordato adesso ma che capolavoro ma che capolavoro tra l'altro gli arrestati quelli perché quelli di da tu sindaco incentivi quelli di adrian che fanno violenza e per questo ti ammazziamo perché noi siamo contro la violenza ma che cazzo di ragionamento ma vabbè adrian sono io scemo che cerco di trovare un collegamento poi vabbè sono tante robe orso e carbone i due agenti migliori del potere che non sanno mentire davanti al primo ministro a caso così che si incespicano dovrebbero essere agenti segreti ma non sanno mentire non lo so non lo so ragazzi è tutto molto ci corposa questa puntata è veramente ciccione infatti viene quasi abbattuta la sua epicità dagli ultimi quanti 20 minuti io li ho percepiti come 20 minuti ma in realtà saranno 10 al massimo di videoclip di celentano quello è orribile rispetto a tutto quello che abbiamo visto prima ma siccome non voglio farla tanto lunga e anche perché vorrei mai annoiarvi vista del dell'analisi minuziosa dell'episodio vorrei soltanto esprimere le mie impressioni a caldo per quanto riguarda il discorso finale della pastorelli si si va nell'ambito pre show anzi post show in questo caso ma io credo che non abbiamo mai sentito un discorso peggiore in adrian e ce ne sono stati c'è stato quello di adriano celentano che si incazzava con il pubblico a casa perché hanno regalato adrian un flop micidiale nelle prime quattro puntate e a quanto pare è rimasto così il discorso della pastorelli su lui è una persona e mi ha sorriso ma perché lui siamo e ci scambiamo vibrazioni di una persona e andrà il matrimonio di quella pastora tutto quel dialogo lì ho pensato fosse il peggio ma invece no questo monologo alla fine della pastorelli che tenta disperatamente di andare a coprire i buchi di trame tutto quello che noi abbiamo criticato di adrian la serie evento ci ha detto che insomma riassumo velocemente quel che mi ricordo infatti sono le vere impressioni perdonatemi ma che adriano celentano non è egocentrico non si è paragonato a dio in realtà lui si è paragonato a superman lui è un supereroe adrian è un supereroe ha i superpoteri anche superman e superpoteri ma non è che andiamo lì a dire è superman è un egocentrico ma che cazzo dici cazzo dici superman non scrive il fumetto di superman adriano celentano scrive adrian ha scritto adrian spero scriva anche la seconda stagione ma cioè lì sostanzialmente una lieve differenza cioè tra l'altro se vogliamo dirlo superman è il supereroe più noioso in assoluto perdonatemi fan di superman che sicuramente mi starete ascoltando a frotte ma mio dio e tra l'altro superman non può fare un cazzo contro adrian perché non so se lo sapete superman non si può teletrasportare non può cambiare il tempo non può provocare terremoti non può evocare pavarotti nel bel mezzo di un combattito pavarotti mio dio ragazzi è stato meraviglioso cioè dai e tra l'altro non ho cercato di spiegare anche questo ho dato perché il tempo cambia e no perché quando male e bene si scontrano è distruttivo sì 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 sono d'accordo ma mostrato così non è distruttivo è trash neanche è assurdo è assurdo dai mio dio mio dio dai come si fa come si fa gilda gigante con bacche d'asfalto i grattacieli ma tra l'altro no tra l'altro ci ho pensato adesso il sindaco in realtà è vivo perché annuncia alla fine che milano è la città del futuro come ha fatto a salvarsi il sindaco frega cazzi infatti tutti i misteri di adrian come se fosse lost tra l'altro sto parlando ma tutti i misteri di adrian vanno a puttane nel senso chi era adrian alla fine perché ha quei superpoteri cioè loro ci hanno soltanto mostrato il perché sappia le arti marziali ma perché sapete trasportarsi teletrasportarsi non so parlare non non ce l'hanno mai svelato e non ce lo sveneranno mai a fatto che facciano uscire un'edizione in blu ray con all'interno la decima puntata e le spiegazioni di adriano celentano io la comprerei una roba del genere voi no con questo quesito vi saluto vi ricordo di iscrivervi al canale di seguirmi anche su spreaker e sul mio profilo twitter dove ho commentato un po' anche questa puntata per rimanere anche sempre aggiornati su quello che sui futuri podcast diciamo vi ricordo anche di commentare perché il vostro commento è la cosa che preferisco in assoluto mi piace molto questa discussione che si crea sempre tra l'altro sotto gli speciali adrian anche perché ormai è l'unica cosa che faccio niente voglio sapere assolutamente la vostra opinione o prima impressione su questo ultimo episodio di adrian alla serie evento fatemi sapere assolutamente noi ci vediamo al prossimo contenuto che caricherò su questo podcast non so cosa sarà e al prossimo speciale adria che uscirà giovedì ciao ciao ciao